Ciao e benvenuti su Glimissima, primo canale italiano di recensioni di calze e collant e altri prodotti di abbigliamento femminile. Io sono Marisola ed è la seconda volta che mi vedete qua. Glimissima mi ha omaggiato di questi bellissimi, veramente stupendi, collant. Sono della Loretz e sono di fantasia leopardata dai 20 ai 40 renari. Andiamo subito a spacchettare. Wow, questi vi valorizzano secondo me tutti gli outfit. Stupendi. Andiamo a provare. Eccoci qua, ho appena indossato i collant e io li sto adorando. Sono perfetti per un outfit in cui si va a cena fuori con il fidanzato, quindi anche se noi vogliamo andare a mangiare fuori al sushi, ad un ristorante un po' più pregiato, con questo outfit ci sta benissimo, perché per dare qualcosa di particolare come lo sono questi collant, io ho messo questa gonna che comunque ha i brillantini con sopra qualcosa di più basic, quindi total black, questo body che comunque ha questo dettaglio molto carino. Quindi se si vuole dare una match in più al proprio outfit per un'uscita o col fidanzato o appunto per andare al ristorante, questi io li trovo la scelta veramente giusta. Tra l'altro sono tutti quanti omogenei e molto morbidi. E eccoci qua. Adesso vi do un po' più di informazioni tecniche. Questi collant vanno dai 20 ai 40 renari e sono dalla misura dalla S alla L. Tra l'altro voglio fare veramente i complimenti, perché quando ho messo questa gonna, io per sbaglio le ho messo a incontrarle, ho detto cavolo, la giro sti cavoli, e invece no, perché non riuscivo a girarla dopo che le avevo messi. Di conseguenza questo è un punto strafavore, perché se noi vogliamo andare in discoteca e capita che noi ragazzi ci sia alto il vestito, perché magari o siamo un po' dimagrite quindi ci si alza, o tra tutto il casino perché siamo in mezzo alla gente, si alza il vestitino o questi collant non si alza. Ed è una scoperta atomica, però se noi siamo in discoteca vi vedrete con questi. Portato proprio. Comunque, tra l'altro, essendo di un total black, si possono tranquillamente abbinare a questo tacco. Controllo un attimo se ci sono cuciture. Qua è perfetto perché a parte che le ho guardato l'occhio sul piede, è bellissimo. Poi c'è qua questa cucitura, però c'è soltanto questa. Quindi io ad esempio qua non li vedo. Il piede rimane, li ho guardato, con questa piccola cucitura sul davanti che tra l'altro, ho lasciato un tacco se non ho, perché? Perché qua, guardate pure, non si nota la cucitura. Perché comunque essendo tutto quanto nero non si nota. Mamma mia ragazzi, che belli, che morbidi. Rieccoci con questo nuovo outfit che io adoro. Questo outfit se vuoi uscire la sera comunque con un ragazzo o con le amiche soprattutto è perfetto, perché è qualcosa di tranquillo, con sopra la parte tutta quanta castana, con un body, io, perché in questo caso sto usando il body, o anche con un top molto tranquillo, senza disegni particolari, perché c'è già il nostro collant che fa outfit. Tra l'altro con questa gonna che è tranquilla, perché è tranquilla, però con questo spacco mette proprio in mostra e in risalto ciò che noi dobbiamo far vedere, cioè il collant. Quindi io per uscita la sera, avete già capito, perché vi vedrete in giro con questi sempre. Andiamo in corso a farci i nostri giretti con il nostro collant, è perfetto, è tornato. Come detto, questo outfit per uscire la sera è perfetto. Una cosa che ho scoperto adesso, guardate qua, qua c'è il pantaloncino, di conseguenza se noi ad esempio indossiamo come in questo caso, vedete che è tutto pensato, una gonna con uno spacco, però non vogliamo essere comunque troppo evidenti, troppo volgari, c'è da ricordare che c'è questo pantaloncino. Quindi se ad esempio usciamo verso la primavera o anche l'estate c'è la colata di vento e comunque, perché ci sta bene a tutte le ragazze, sta bene una gonna bella stretta qua e larga qui, ci viene una colata che ci prende senza la gonna. Tra cui le ragazze, perché qua c'è il pantaloncino scuro. La versione migliore non si poteva fare, perché già con questi dettagli che sono veramente stupendi e particolari animaliere, siamo già tutelate, perché comunque qua è abbastanza scura la gamba se non vogliamo dare troppo nell'occhio, poi c'è questo pantaloncino. Adoro. Ed eccoci qua, siamo arrivati purtroppo alla fine di questo video. Io do complessivamente un punto di vista molto pieno queste calze. Sono veramente assurde. Mi dava assolutamente un po' fastidio il fatto che se non lo stavo alla gamba non riuscivo poi a girarla, però c'è aggettivamente anche un punto a favore, perché comunque il vestitino se lo avessi messo non mi si sarebbe alzato. Concludo con questo outfit finale, perché secondo me anche la sera di estate con qualcosa di tranquillo e classico ci sta da Cristo veramente. Quindi questo ricordiamoci che per cene, serate fuori, discoteca? No, non ce la vedo bene. Noi vi lasciamo sotto l'HTTPS per poter acquistare da Amazon appunto queste paia di Collant che saranno le nostre migliore amiche per sempre, da sempre. E in ogni caso, se le avete acquistate guardando questo video, scrivete mi raccomando nella recensione, ovviamente parlando di me, e io vi do finalmente un saluto. Vi ricordo di seguire Glendissima non solo qua su YouTube e su Instagram, ma anche su Patreon. Io sinceramente non ho Patreon perché appunto faccio soltanto video e recensioni di Collant qua su YouTube, però ci sono altre mie colleghe che sono veramente bellissime, degli angeli riusi dalla Terra, e andate assolutamente a vedere anche i loro video, vero Luna? Ecco, anche Luna mi dice di andare a vedere. Quindi ragazzi vi do un saluto, iscrivetevi al canale!